Il packaging di acqua filette è un concetto di grande eleganza. L'idea ispiratrice fu quella dell'acqua come il vino, quindi diffondere una cultura che desse all'acqua la stessa nobiltà del vino. Ed ecco perché la similitudine con una bottiglia bordolese rigorosamente a perdere, con una capsula che in qualche modo coprisse il tappo e diventasse ulteriormente una garanzia per il cliente. Una etichetta satinata come quelle delle bottiglie di champagne. Ecco che il packaging diventa molto importante perché diventa un veicolo di comunicazione. Che cos'è che stiamo scegliendo? Non stiamo scegliendo soltanto un'acqua elegante, stiamo scegliendo un concetto che vuole riportare l'acqua ad avere esattamente la stessa apertura protocollare che si ha con un vino. Ecco perché chi è al tavolo quando presenta una bottiglia di acqua filette deve portarla esattamente come si porta una grande bottiglia di vino. Logicamente tutto questo farà sì che le persone che sceglieranno questo prodotto assimileranno alla perfezione il concetto culturale di acqua filette e diventeranno loro per primi i grandi comunicatori di questo prodotto. Per garantire e tutelare i nostri clienti l'acqua filette ha scelto rigorosamente di utilizzare vetro a perdere. Tutto questo perché vi sarei d'accorti che di tanto in tanto vi capita qualche bottiglia con una sottile riga bianca che segnala il fatto che quella bottiglia sia vetro riciclato. Vetro riciclato perché la bottiglia è stata rigorosamente lavata con della soda. Quindi non potendo garantire più acqua filette la pulizia e la garanzia della purezza dell'acqua fa una scelta che sicuramente è un pochino meno economica ma sicuramente vi regala quella che è la purezza che noi vogliamo raccontare e vogliamo diffondere nel mondo. Anche in questo subentra la nostra ospitalità e l'ospitalità di chi vuole ricevere qualcuno a casa fa sì che dobbiamo mettere sempre le cose più belle che abbiamo. Ecco che filette diventa anche un ornamento di grande eleganza sulla nostra tavola.